Sì, la peticione ti consigui, però anche il caso ti consigui. Perciò, è una negoziazione per avere un accordo amical, in teore, il caso potrebbe ritirare. Però la peticione al Consiglio Insular ti consigui, normal, perciò avvenire con la peticione. Il Pape è un viaggio a capo con il governo e sempre sta disposto, e sta apprezzando con il governo. Sta disposto, volontariamente, per il Pape con noi, perciò avvenire con il Consiglio Insular per ordinare il governo per negoziare con noi. Però non messe, vieni di l'anno e vieni con il Pape. Quindi, non stiamo in Pape e non stiamo apprezzando, ma non stiamo a capire la realtà che il nostro Pape è un viaggio a capo e non si chiede a capire di saponare. Ora, per il Pape, il governo che è in Pape, come mi dico, mi dico, mi dico, mi dico, mi dico, quale diputato, chi è venuto a cercare la conversazione qui? Sì, beh, bene, chi è venuto a cercare, mi dico che non è un momento meno importante, ma è un momento più importante, ma è un momento più importante che io ho 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 ho, e anche, magari, non stiamo a capire di sapere, ma non stiamo a capire. Svolta un peice dopo che ha già riuscito in Bozzan lo stiamo cercando il governo? Se ne portano per un di come punto di vista, perché ci sono un caso per il Consiglio Insulari, per il Consiglio Insulari abbiamo una risposta che per il dia 29 si può parlare in modo un'altra cosa, che mi può dare un'explicazione, e in mio opinione si è possibile, però c'è una peticione che ci sono, quindi se non ci si può parlare con il Consiglio Insulari, che ci sono un Consiglio Insulari, per il Consiglio Insulari. Però poi ti spero di papi naturalmente che il diputato Tilman promete che ci sono un Consiglio Insulari? Beh, chiaro che non ci spero, papi promete, non ci sono un'altra cosa, però ci sono un'altra cosa, ci sono un'orientazione, non ci sono dei dettagli, ma ci sono dei dettagli, ci sono dei dettagli, ma che ci sono dei dettagli, e ci sono dei dettagli. Ma ci si, è che è stato scancato per le donne, questo è stato scancato e non è stato scoperto per fare una dittà della ricetta, se ci sono stati scoperto per fare una domanda, ma io non miro che sono dedicato per avere una squadra, che non ci rendono i miei membri niente, ma non ci rendono bene. E' un po' molto duro, e' un po' molto sicuro, e' un po' molto più difficile. Il punto più importante è che non arriva in la lista di esperienza, non lo voglio rispettare. Non lo voglio maltrattare, non lo voglio maltrattare. E' un po' molto buongiorno e la pericolazione è che non ci rendono capace. E' una esperienza che non ci rende un terreno, ma vorrei che eventualmente, abbigliare il governo abbigliare il governo, abbigliare il governo, poi io probabilmente abbigliare il governo.